Buongiorno, qui è Merenderot, l'alchimia della cucina mia. Voglio farvi vedere, sto facendo le cime di rape, le faccio come le faccio la mia madre. Beh, io penso che tante donne italiane le cuociono così. Da me in Calabria si chiamano le rape affucate. Sarebbero stufate con aglio, peperoncino, alloro, metto un po' di sale e olio. E poi faccio andare piano piano per farle cuocere e sono deliziose. Merenderot vi saluta con mal di dentro, è giù pomeriggio andando al dentista. Vabbè, fa parte della vita. Bye bye, a presto, vi voglio bene. Ecco a voi le mie cime di rape, crude, cotte. Non lo so se riuscirò a farle vedere, me le mangio e basta. Ciao!